In un'operazione antidroga condotta da carabinieri è stato tratto in arresto uno spacciatore Fartat Gazi Tunisino 42N, già noto alle forze di polizia. Lo straniero è infatti ritenuto responsabile del reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggramante specifica e reiterata. L'arresto è scaturito a conclusione di un'attività d'indagine svolta dalla stazione di Lido, cominciata nel gennaio scorso a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, che avevano notato un costante via-vai nei pressi di un'abitazione di Lido di Camaiore. I militari dell'arma hanno da subito effettuato alcuni servizi di osservazione nei pressi dell'abitazione segnalata che hanno consentito di accertare le modalità di spaccio del tunisino che dopo aver dato appuntamento all'acquirente cedeva lo stupefacente al ridosso dell'ingresso dell'abitazione ricevendo poi le somme di denaro. L'attività investigativa, svolta da gennaio ad aprile 2021, ha consentito di accertare che in tale periodo il pusher avrebbe ceduto oltre 1.200 dosi di eroina e circa 20 dose di metadone ad almeno una decina di acquirenti per un giro di affari quantificato in circa 25.000 euro. A conclusione dell'indagine, i carabinieri hanno dunque fatto scattare il blitz nell'abitazione in uso allo straniero, il quale successivamente è stato trasferito presso la casa circondariale di Lucca.